Ciao sono Luca Lolletti e vi do il benvenuto su Garage Water Basic, il primo corso entry level gratuito online che approfondisce attraverso semplici video tutorial gli argomenti principali della ginnastica in acqua. Buon divertimento. I modelli di drop bike presenti nel mercato oltre che per il design e l'ergonomia dei componenti si differenziano principalmente per il loro meccanismo di resistenza. Quest'ultimo rappresenta il sistema con il quale è possibile creare attrito e cioè un carico durante la pedalata. Sebbene ogni casa produttrice abbia elaborato il proprio meccanismo di resistenza esistono delle caratteristiche che li accomunano e che possiamo classificare in quattro categorie 1 resistenza periferica pedale 2 resistenza centrale a sistema 3 resistenza a freno meccanico 4 resistenza a freno idrodinamico. Di seguito seguirà un'analisi descrittiva e non comparativa di ogni meccanismo di resistenza al fine di svelarne le principali caratteristiche tecniche e funzionali. Il meccanismo di resistenza periferica a pedale è caratterizzato dalla presenza di appendici o componenti extra di forme e superfici diverse posizionate sulla parte laterale del pedale o integrate con esso. La superficie di incidenza degli appendici e cioè l'area di contatto extra sulla quale si crea un maggior attrito ne aumenta lo sforzo. Uno dei modelli più rappresentativi di questo meccanismo è senza alcun dubbio il sistema flap movement della nota azienda italiana Okeo. Attraverso questo sistema il ciclo di pedalata varia in relazione all'angolo di rotazione nel quale si rilevano due punti di massimo sforzo e due di minimo. La massima resistenza si registra quando i pedali sono allineati orizzontalmente poiché la spinta agisce sulla componente verticale. Al contrario ci sarà una resistenza minore quando i pedali sono in posizione verticale con la presenza di due punti morti uno superiore e uno inferiore. La modulazione della resistenza dipenderà esclusivamente dalla velocità di pedalata. Alcuni modelli di bike prevedono anche un sistema di estensione manuale delle appendici operazione che si effettua generalmente prima dell'immersione per aumentare ancora di più lo sforzo. Il meccanismo di resistenza centrale a sistema è caratterizzato dalla presenza di elementi concavi simili a dei bicchieri o da palette di forme diverse posizionate tra i pedali nel centro del telaio. Questi elementi azionati simultaneamente garantiscono una resistenza costante per l'intero ciclo di pedalata facendo sì che la modulazione dello sforzo dipenda esclusivamente dalla velocità con la quale si pedala. Per alcuni di questi modelli di bike è prevista un'ulteriore regolazione dello sforzo tramite l'estensione o la riduzione della lunghezza degli elementi resistivi. Operazioni tra l'altro attuabili anche senza dover scendere dalla sella. Ad oggi i modelli di riferimento che meglio integrano questo sistema sono quelli dei marchi Hydro Rider e Aquapol. Questo tipo di resistenza tipico dei modelli prodotti dall'azienda Aquatics rende le biciclette acquatiche molto simili in termini di caratteristiche della modulazione del carico alle biciclette stazionari terrestri. La resistenza a freno meccanico è caratterizzata dalla presenza di una manopola generalmente posta sulla parte centrale del telaio tra i due pedali in grado di regolare la difficoltà dello sforzo di pedalata creando una pressione sul volano. La maggior parte dei modelli di bike che utilizzano il sistema a freno meccanico abbinano ad esso anche il sistema di resistenza a pedale assicurando così un'intensità di pedalata ancora più efficace. In conclusione questo meccanismo resistivo assicura un ciclo di pedalata continuo e fluido e con la possibilità di regolare l'intensità dello sforzo di pedalata durante l'utilizzo. Questo meccanismo di resistenza ideato dall'azienda S Nuoto è caratterizzato dalla presenza di un maxirotore alloggiato tra i due pedali al quale sono fissate sei pale di forma elicoidale che muovendo l'acqua in maniera rotazionale non creano vuoto tra una pedalata e l'altra. Al maxirotore è inoltre collegato un sistema di quattro marce regolabile per mezzo di una manopola posta nel telaio al di sotto del manubrio in grado di modulare l'apertura delle pale da un minimo di 30 gradi la prima marcia fino ad un massimo di 90 gradi e cioè la quarta marcia. In funzione della pedalata di rotazione le pale tendono in automatico ad avvicinarsi o ad allontanarsi permettendo così una resistenza idrodinamica progressiva in funzione del tipo di sforzo che si intende raggiungere. Un'ulteriore opzione è costituita da una ghiera che consente il fissaggio delle pale nelle varie marce al fine di sviluppare uno sforzo costante. Ma quale di questi meccanismi è il migliore? Anche se ho avuto l'opportunità e il piacere di provarli e testarli tutti quanti non voglio esprimere un giudizio personale. L'analisi descrittiva di questi meccanismi di resistenza ha il solo scopo informativo affinché l'istruttore o il soggetto principiante ne riconoscano le principali caratteristiche. D'altronde ricordiamoci sempre piscina che vai idrobike che trovi. Aspetta aspetta che stavo dimenticando una cosa in descrizione troverete tutti i link delle aziende citate vi consiglio di darci uno sguardo perché lì troverete le schede tecniche dei vari modelli e tutti i riferimenti per contattare le case produttrici qualora ne aveste necessità. Bene amici ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina così vi arriverà subito la notifica di tutti i nuovi video. Per informazioni dettagliate sul mondo garage water o sui prossimi corsi di formazione visitate il sito www.garagewater.com oppure la pagina ufficiale di facebook. A presto!